Amici di Carta Bianca! Stavolta lo faccio io il video perché siamo al Teatro Sociale a Castiglione delle Stiglie è sparita la giornalista! Dove stai? Dove stai? Ciao a tutti! Siamo in buone mani! Carta Bianca? Carta Bianca! Perfetto! Qual è la novità? La novità è che molto presto devo ritornare a Milano grazie a Giusy Versace! Perché? Perché non porterò pettini ma un valore aggiunto! Lo sai che io mi sono specializzata sulla violenza domestica? Allora ricordiamo a tutti che il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne quindi anche agli uomini facciamo un appello! Siamo presenti! Unitevi a noi! Wall of Dolls, il muro delle bambole è un'iniziativa che nasce insieme all'amica Giosquillo saremo contemporaneamente presenti a Milano, Genova, Roma, Venezia e Brescia Certo non è che abbiamo il dono e l'ubiquità, ci divideremo ma vi aspettiamo alle 11 domani 24 novembre in via di amici!